E' di otto mesi la pena chiesta dalla procura per un commerciante nisseno, titolare di un negozio di elettrodomestici e altro, imputato in tribunale con l'accusa di avere violato le disposizioni del bonus su cultura previsto alcuni anni fa dal governo allora guidato da Matteo Renzi. Secondo l'accusa, l'uomo, difeso dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Di Buono, avrebbe tenuto una condotta leggera, permettendo a parecchi ragazzi di acquistare smartphone o tablet con le somme stanziate per i giovani e che invece avrebbero dovuto essere utilizzate per l'acquisto di libri o di altro materiale didattico. Nel processo è parte civile l'avvocatura dello Stato con l'avvocato Giuseppe Laspina, quest'ultimo ha chiesto il risarcimento dei danni per conto del governo nazionale. Tra un mese si tornerà in aula per le conclusioni della difesa.